È un gesto molto particolare, ma al momento dell'attuazione sarà un gesto molto semplice. Consiste nell'assenso oppure nel non aderire alla donazione degli organi attraverso la carta d'identità. Che cosa significa? Che il cittadino nel momento in cui dovrà rinnovare la propria carta d'identità oppure farla in ex novo, cioè per la prima volta, potrà dare il suo assenso dicendo sì, sono disponibili a questo gesto. Mentre quando capita attraverso l'associazione dell'Aido sono i familiari che aderiscono a questa possibilità, adesso si può fare in maniera del tutto personale. Questo da quando? Sicuramente necessita un po' di tempo prima per aggiornare i software. Esatto, i nostri uffici si stanno adoperando e per questo adattamento non mi sento di spendere una data ma credo in tempi brevi. Ci sarà anche un'altra possibilità, credo, nel senso che se un cittadino dovrà rinnovare la propria carta d'identità, non nell'immediato ma per dire da qui a dieci anni, noi potremo dare la possibilità di far sì che può venire anche prima a dare il suo assenso.